Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, la storia di oggi è davvero sconvolgente secondo me, uno dei casi paranormali più scioccanti di sempre, una possessione demoniaca ai danni di un bambino di soli 11 anni, David Glazel. Pensate che durante un esorcismo proprio su David, il diavolo che lo possedeva trova spazio in un'altra persona lì accanto mentre sta assistendo al rito di liberazione. Ma non solo questo, perché è anche uno dei casi più rari al mondo dove una possessione demoniaca venne usata in un tribunale degli Stati Uniti come difesa durante un processo per omicidio avvenuto per ordine del diavolo. La storia per chi non lo sapesse è stata da spunto per un film The Conjuring 3 per ordine del diavolo appunto, dove sono presenti i famosissimi coniugi Warren. Ma è stato anche da spunto per un documentario uscito da poco su Netflix, The Devil on Trial, che io vi consiglio caldamente di guardare perché ripercorre tutte le tappe di questa storia incredibile. Ma amici, prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale se siete appassionati come me di paranormale, storie true crime e mistero e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo! Siamo nel 1980 a Brookfield, una tranquilla cittadina in Connecticut. Qui vivono i Gleisel, una famiglia molto unita, composta da i coniugi Carl e Judy Gleisel e i loro quattro figli, Carl Junior, Alan, David e Debbie. È una famiglia molto compatta e anche molto cattolica, soprattutto Judy. All'interno di questo nucleo familiare c'è anche un'altra figura, Ernie Cheyenne Jackson, il fidanzato di Debbie, che passa molto tempo con i Gleisel e che è stato accolto in questa famiglia proprio come uno di loro, come se fosse un familiare. Ernie e Debbie però hanno voglia di costruire il loro futuro insieme. Decidono quindi di andare a convivere e prendono una casa in affitto a Newton. In famiglia c'è dispiacere nel vederli andare via, ma comunque sono consapevoli che i ragazzi debbano prendere il volo e costruire la loro vita. Un giorno di luglio Judy e i suoi tre figli maschi decidono di andare ad aiutare i ragazzi con il trasloco e a mettere anche un po' di ordine in casa. Ma il piccolo, David, di undici anni, quando arrivano a destinazione, già dall'esterno capisce che quella a casa non gli piace. Non si dà una spiegazione, è solo una sensazione. Comunque di fatto entra, anche se controvoglia. A David viene affidato il compito di spazzare il pavimento della camera da letto al piano superiore e lui ci va. Anche se spiegabilmente, pochi minuti dopo, fugge terrorizzato da quella stanza per recarsi in giardino. La famiglia lo raggiunge immediatamente, lo trova ranicchiato sotto un albero in preda alla paura. Judy gli chiede che cosa fosse successo e lui risponde niente, voglio solo andare a casa. Ma la mamma gli dice no, non possiamo andare a casa, siamo appena arrivati, abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Ma David è removibile, dice no, io voglio andare via immediatamente da questo posto. Tornati a casa sembrava che fosse tutto a posto, ma non era così, perché David non era per niente tranquillo, anzi sembrava piuttosto turbato. E qui Judy gli chiede che cosa avesse di raccontargli che cosa era successo quel giorno e David glielo racconta. Gli dice che mentre era in stanza ha sentito chiaramente di non essere solo, avvertito una presenza invisibile che lo stava fissando. Ha visto anche la porta aprirsi da sola, cigolando. E questo l'ha spaventato molto, ma quello che l'ha terrorizzato di più è quando una forza sovrumana invisibile l'ha scaraventato sul letto come se fosse un pupazzo. Ma non solo, mentre era supino sul letto, inchiodato al materasso che non riusciva a muoversi, ha potuto chiaramente vedere una figura accanto a sé, tutta nera con sembianze animalesche, occhi neri come la pece, orecchie a punta, corna e zoccoli. Sembrava proprio un vestito da diavolo di Halloween. E questa figura gli ha intimato di stare attento, di andare via immediatamente da quella casa, altrimenti avrebbe preso la sua anima. Ma la storia non convince i Glazel, non li credono, assolutamente. Pensano solo che David stia facendo dei capricci perché molto stanco e provato dalla giornata che avevano appena passato. Addirittura il fratello Carl è convinto che David abbia preso dei farmaci dal bagno, che quindi abbia avuto delle allucinazioni, glielo dice, ma David gli dice no, assolutamente, quello che vi sto raccontando è tutto vero, dovete credermi. Si ritirano quindi tutti per la notte, ma David non riesce a dormire. È quasi come sentisse un richiamo, si alza dal letto e si affaccia alla finestra, dove è chiaramente la stessa figura che l'aveva spaventato il pomeriggio, lì, di fronte a casa sua, in mezzo agli alberi, per poi sparire del tutto. Quella notte David non chiuse occhio. La mattina seguente Judy, la mamma, chiama il parroco del paese e gli chiede di venire immediatamente a benedire la sua casa, cosa che fa il giorno stesso. Quando il parroco va via sembra tutto tornato alla normalità, ma non è così, perché quella stessa notte, alle tre di notte, David si sveglia urlando indemoniato, cosa che fa scattare tutti dal letto per raggiungerlo nella stanza. A quel punto la casa inizia a tremare, come se fosse piombato un ufo sopra il tetto della loro casa. Ma non solo, le luci si spensero, gli oggetti caddero dai mobili e tutto questo durò all'incirca 30 secondi per poi improvvisamente calare il silenzio totale. E qui tutti erano terrorizzati e sotto shock, che iniziano a pensare che forse David non aveva mentito e decidono di prendere la situazione in mano perché vogliono assolutamente fare qualsiasi cosa pur di mandare via quelle presenze maligne che c'erano all'interno della loro casa. E un aiuto arriva da una loro vicina che conosceva un demonologo, un certo Ed Warren e Judy cerca di mettersi in contatto immediatamente con lui, nella speranza che potesse essergli d'aiuto. Amici dei coniugi Warren, io vi ho già parlato, vi lascerò poi il link in descrizione di quel video. Ed è un famosissimo demonologo e la moglie Lorraine è una famosissima sensitiva. Divennero celebri per i loro interventi su case infestate, possessioni demoniache, ma soprattutto raggiunsero la celebrità dopo il caso di Amityville, di cui vi ho anche già parlato e vi lascerò il link in descrizione se vi va di vederli. Judy lo contatta telefonicamente. Ed ascolta tutta la storia e decide di seguire quel caso. Si presenta infatti a casa loro il giorno dopo con la moglie Lorraine ed un medico per visitare David. Qui al ragazzo vengono poste tantissime domande su cosa stesse succedendo. Ovviamente venne tutto registrato e dalla visita medica risultò che David non aveva assolutamente nulla di anormale. I Warren erano muniti di tre cose molto importanti. Olio santo, acqua benedetta e un crocifisso. Chiedono la presenza di bussare tre volte se era davvero lì con loro e all'improvviso tre colpi potentissimi alle pareti fanno tremare letteralmente la casa sotto gli occhi terrorizzati di tutti. Quando la situazione sembra essersi assestata Lorraine si avvicina a Ted e gli sussurra all'orecchio che aveva visto quella presenza. Era una grossa sagoma scura proprio accanto a David ed era uno spirito maligno che l'aveva preso di mira. A questo punto i Warren mettono in guardia i Glazel e gli dicono che questo demone molto probabilmente nei giorni seguenti avrebbe potuto possedere il corpo del figlio e gli consiglia quindi di tenerlo sotto stretto controllo e di raccogliere più prove possibile per poter cercare di convincere la chiesa a tentare un esorcismo. Quello che accadde infatti nei giorni successivi fu davvero da brividi. David iniziò ad avere delle crisi dove si contorceva per terra assumendo delle posizioni assurde impossibili per un essere umano. Bestemmiava, si ritorceva contro la madre, diventava violento arrivando ad aggredire chiunque. Tutto questo poteva durare alcuni minuti ma alcune volte durava per ore. Iniziarono a fare dei turni familiari per poterlo controllare ed erano tutti in preda alla paura tanto da rifugiarsi nella preghiera sperando di uscire da quell'incubo il più in fretta possibile. Carl, il padre invece, era una figura proprio a sé. Lui non credeva a tutto quello che stava succedendo, anzi pensava che il figlio stesse fingendo. Pensate che si mise a fare due lavori pur di non stare all'interno di quella casa. Infatti lo vedevano solo per dormire. A quel punto Judy chiamò i Warren e gli raccontò tutto quello che stava accadendo e i coniugi erano assolutamente convinti che David era posseduto e non c'era più tempo da perdere perché il ragazzo rischiava la vita. Quindi sulla base di tutte le prove che avevano raccolto, audio e immagini Polaroid, contattano la chiesa che dà l'autorizzazione per eseguire un esorcismo semplice alla St. Joseph's Church di Brutfield. La chiesa invia immediatamente un loro cardinale e all'inizio del rito sembra procedere tutto tranquillamente quando all'improvviso sembra scendere un gelo dentro quella chiesa e David cambia atteggiamento, ringhia, soffia, bestemmia. Inizia a contorcersi in posizioni umanamente impossibili. Pensate che riuscì a divincolarsi nonostante fossero sei le persone a tenerlo e si scagliò contro il sacerdote aggredendolo. Ernie a quel punto gli appoggia il crocifisso sulla fronte e David inizia a contorcersi. La sua lingua si gonfia e il volto gli diventa tutto blu. E qui amici accade qualcosa di davvero incredibile perché Ernie, preso dallo sconforto per quello che stava accadendo a David, dice al demone di lasciare in pace quel bambino e piuttosto di prendere lui. Ed è quello che accade infatti. Ma i Warren sono sotto shock per questo e dicono a Ernie ma cosa hai fatto? Non dovevi farlo. È una cosa gravissima sfidare a quel modo un demone durante un rito di un esorcismo. Il rito però sembra funzionare e David è proprio libero da quell'entità così malvagia. Difatti nei giorni successivi sembra essere tornato tutto alla normalità e pare anche che David abbia finalmente ritrovato quella serenità che aveva perduto. Ma amici non finisce qui perché i Warren in quei giorni si presentarono alla stazione di polizia di Brookfield e misero in guardia gli agenti riguardo una visione di Lorraine, un possibile omicidio. Gli raccontano tutto quello che era successo a David, alla possessione e ad Ernie di come aveva sfidato quel demonio e gli dicono che presto accadrà qualcosa di molto brutto. Il tempo passa e Debbie trova anche lavoro come tolettatrice nel negozio di un certo Alan Bono e va a vivere con Ernie nell'appartamento che era incluso nel contratto. Fra i tre si instaura una bellissima amicizia tanto che un weekend di febbraio del 1981 decidono di cenare insieme anche alle sorelle più piccole di Ernie. Ma quella sera sembra che Alan abbia bevuto qualche bicchierino di troppo tanto da diventare un pochettino molesto e da far decidere ad Ernie di chiudere la serata. Infatti dice a Debbie finiamo la serata e porto le ragazze a casa. Ma quello che accade dopo è davvero allucinante perché Ernie che sembrava posseduto si avventò su Alan e lo pugnalò al torace quattro volte ferendolo a morte. E la cosa ancora più scioccante è che Ernie non ricorderà mai nulla di quell'episodio. A quel punto sotto shock si avvia a piedi per strada senza una meta. Nel frattempo a casa Gleisel arriva la telefonata disperata di Abby così Carl e Judy insieme al loro figlio Carl Junior si avviano immediatamente sul posto. Nello stesso momento David ha una visione di quanto è accaduto quella notte e dice all'altro fratello che devono barricarsi in casa perché Ernie è posseduto e il diavolo sta andando lì da loro perché vuole ucciderlo. Mentre l'ambulanza sta trasportando il corpo di Alan Bono però avvistano per strada Ernie e i soccorritori avvertono subito la polizia. Difatti lo arresteranno subito dopo. Al momento dell'arrivo in centrale Ernie è sotto shock non ricorda nulla e anche la famiglia è convinta che Ernie era posseduto e che quindi non era in sé al momento dell'omicidio e questa fu anche la tesi che sostenne l'avvocato di Ernie in sua difesa. La frase fu proprio la corte accetta la presenza di Dio ogni volta che un testimone giura di dire la verità e ora che accettino anche l'esistenza del diavolo. Ovviamente si tentò di invocare anche la legittima difesa perché la tesi della possessione non reggeva più di tanto ma il tribunale lo giudicò comunque colpevole e lo condannò a 20 anni di carcere per omicidio colposo di primo grado. Ernie scontò comunque 5 anni di carcere e in quel periodo si sposò anche con Debbie che gli rimase sempre vicino fino a quando purtroppo un cancro gliela portò via. Ancora oggi Ernie la ricorda con amore e dice di non avere alcun ricordo di quella notte, sa di essere stato posseduto, non è mai stato esorcizzato perché sa come agire, come comportarsi, come tenere sotto controllo quella presenza dentro di lui. Da quel giorno divenne anche molto cattolico e questa detta sua fu la cosa che l'ha aiutato più di ogni altra cosa al mondo. Amici che storia incredibile, dalle ricerche che ho fatto sembra che i fratelli Glazer non siano in buoni rapporti, soprattutto Carl che all'epoca dei fatti era a 15enne ancora oggi non crede alla possessione di David, all'omicidio sotto possessione di Ernie e tantomeno ai coniugi Warren. Anzi secondo lui furono proprio i Warren a mettere in testa a David le cose da dire e come comportarsi. Oltretutto c'è anche un'altra cosa molto particolare che dice Carl. Alla morte dei suoi genitori trovarono un diario in casa della mamma Giudi che sembra annotasse tutto con dovizia di particolari e c'era una frase che ricorreva spesso in questo diario. Stasera hanno preso tutti la medicina ed è tutto tranquillo. Ma quale medicina? Carl è convinto che la mamma avesse dei problemi mentali e che per evitare delle discussioni in casa desse a tutta la famiglia ogni sera delle piccole dosi di sonnifero e secondo lui questa cosa avrebbe potuto causare delle allucinazioni soprattutto in David il fratello più piccolo. Su una cosa però si trovano tutti d'accordo i fratelli Glazel e cioè che i Warren guadagnarono un sacco di soldi dopo l'uscita del loro libro The Conjuring e che loro invece non abbiano praticamente guadagnato nulla. Di fatti sembra che su un totale di quasi 80 mila dollari i Glazel abbiano ricevuto dai Warren circa 4 mila dollari. Amici siamo arrivati al termine di questo video è stata una storia davvero incredibile fatemi sapere se la conoscevate nei commenti se avete visto il film e se avete anche avuto modo di poter guardare il documentario su Netflix che io vi consiglio. Io vi mando un bacio grande mi raccomando se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like e ci vediamo la prossima settimana con una nuova storia. Ciao amici! Grazie a tutti!